Sindaco, c'è stato nelle ultime ore il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico per parlare della questione Rancitelli. Cosa è emerso? Sì, il prefetto ha convocato questo incontro anche su mia sollecitazione perché sabato è avvenuto questo episodio negativo per la nostra città di una macchina incendiata, di una persona che era già stata minacciata altre volte. Il prefetto ha convocato un tavolo molto concreto perché sono emerse posizioni abbastanza rigide nel senso che c'è la volontà di intensificare ulteriormente i controlli nelle zone a rischio, di fare delle attività ulteriori che possano mettere non soltanto i cittadini in sicurezza ma anche far capire a tutti che c'è la presenza dello Stato, che c'è la presenza delle istituzioni, una presenza forte, determinata, una presenza che difende i cittadini per bene e sanziona pesantemente coloro che pensano di delinquere in questa città. Questa è una città dove chi delinque deve sapere che non ha spazio. Le forze dell'ordine sono tutte quante allertate, c'è un coordinamento che funziona e che si rafforzerà ulteriormente. Ieri al comitato c'era anche il procuratore facente funzioni che ha stabilito che comunque ci sarà una stretta su tutte le attività proprio per garantire i cittadini per bene. Abbiamo gli agenti della Polizia Municipale, purtroppo non nel numero che vorremmo, ma stiamo lavorando per ampliare questo numero con i concorsi che si sono avviati e che proseguiranno anche nel 2021 e nel 2022 proprio per fare in modo che tutti gli agenti di Polizia Municipale in grado di farlo siano per strada per difendere le persone serie, le persone corrette, coloro che vogliono vivere la città rispettando il senso civico doveroso per tutti e nel momento in cui questi agenti ampliranno il numero sul territorio sicuramente avremo la possibilità di fare in modo che stiano in tutti i quartieri, non soltanto nel quartiere di Villa del Fuoco.